ModCraft con i porco cazzini Il pacchetto delle mod che uso io E praticamente era scomparso tutto quello che c'entrava con le mod Quindi ogni singolo blocco che c'entrava con le mod Per esempio queste lampade, questo, i barrel, quelle cose lì E anche l'interno di casa mia Perfino le ceste ho dovuto riniziare a fare tutto Potete vedere che mi mancano dei plan Adesso ne sono molti di meno In più in queste ceste potete vedere che c'è molta meno roba di prima Perché non mi ricordavo perfettamente cosa c'era Poi per esempio questa è rimasta intatta Perché appunto era un ender chest e si è salvato il file Poi questa mi ricordavo cosa c'era Questi li avevo usati nell'ultimo video Quindi sapevo come, che cosa metterci E qua sapevo che cosa c'era Quindi non è un gran problema Però se avete notato ho anche fatto delle cose nuove Ma ne andremo a parlare fra pochissimo La seconda cosa che voglio dire È la domanda del giorno La domanda del giorno parla di armi Armi, sì Perché noi al momento non abbiamo una spada o un qualcosa per difenderci Se non l'accenso Che è piuttosto debole, sì Come spada non è utilissima Quindi ce ne serve un'altra Io sono indeciso fra Una delle spade di Modcraft Che sono super mega figherrime No, di Towncraft Scusate, non di Modcraft Che sono super mega figherrime Potenziate, bla 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 Oppure la Nano Saber Che è quella di Industrial Craft Che è questa Che si crafta con due glowstone Due advanced alloy e bla 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 Quindi ditemi voi Secondo voi dovrei aspettare che iniziamo Modcraft Ancora Che iniziamo Towncraft e utilizziamo una spada di quelle Oppure ci facciamo la Nano Saber Che è comunque ricaricabile Quindi non dobbiamo preoccuparci che si rompa Comunque, lasciamo stare quelle cose Ricordatevi di rispondere alla domanda Perché mi è utile Qua la nostra refinery ha finito tutto l'olio Ho già tolto dal punto d'olio le cose che c'erano E ovviamente dovevo dimenticare il Crescent Amber Ma meno male che ho l'Hender Pouch E parlando di Ender Pouch e Ender Chest Ne devo fare altri Comunque, per chi non mi crede che è successo qualche bug del mondo Per esempio sto albero Potete vedere che c'è della neve volante Questa è una delle cose che è successa Oppure alberi tagliati a metà E ce ne sono tantissimi Ho dovuto anche togliere un sacco di alberi Vabbè, è stato piuttosto noioso Comunque, ho tolto questo chunk loader Perché lo voglio mettere qua al centro Che ho già segnato E lo voglio mettere uno più in basso così Ce l'abbiamo flash con il terreno E vediamo se due bastano per tenere tutto caricato Sì, sì, perfetto Giusto proprio a pelo Magari possiamo aumentarlo di uno ancora Vediamo quanto ci tiene caricato Ok, meglio così Perfetto, lo lasciamo così Così abbiamo anche un extra Non si sa mai Qua voglio togliere solo la Energy Cell Perché deve essere ricaricata E il Tesseract Perché ci servirà fra poco Per una nuova tank Che metteremo qua Ho lasciato qua un po' di spazio Perché voglio tenerla Piuttosto lontana Voglio tenerle cose piuttosto lontane In più penso di mettere un'altra tank qua Per quello mi son detto Vabbè, lascio lo spazio extra E questa tank che faremo Sarà una 5x5 Comunque Quindi dovrà essere un po' più grande Di quella che abbiamo già fatto Quindi ci serviranno altri blocchi delle tank Quindi li mettiamo a fare adesso E ho detto quindi troppe volte E mi sembra di essere un tardo Comunque Andiamo a mettere A fare questi blocchi delle tank Che ho già il ferro com'è Ho già fatto i calcoli Quindi perfetto Non dobbiamo stare a fare nulla Così E ora lo attiviamo E dovrebbe iniziare a farceli Perfetto Intanto che quello Continua a farci I iron plate Voglio mettere questa A ricaricare Ok Accendiamo i motori Vediamo se le altre son cariche Sì, perfetto E li mettiamo l'input a 15 Perché non voglio che Aspetti Pertanto Sta riempiendo quella Quindi Buon, lasciamo così Prima o poi si riempiranno insieme Ok Prima di andare avanti Voglio fare degli upgrade Per le nostre macchine Di Industriacraft E voglio anche fare una nuova macchina Che ci servirà La prima macchina che voglio fare E forse dovrei togliere queste cose da qua Prima di farla È una Versione Più potente Dell'Electric Furness Che è praticamente Un Iron Furness Che è Una versione più potente Della fornace E con questa Iron Furness Ho fatto la Electric Furness Che si fa con due Redstone E un Electronic Circuit L'ho fatto solo per Velocizzare tutto Poi abbiamo Un Advanced Machine Block E Sette Copper Ingot Questi ci serviranno Per fare un Induction Furness L'Induction Furness È un po' diversa Da tutte le fornaci Che ci sono in Minecraft Funziona con l'energia Di Industriacraft Però deve essere attivata Con una leva E potete vedere Che qui all'interno C'è questa cosa Qui piccolina Qua abbiamo gli Input Che sono due Un posto per mettere l'energia Quindi un Energy Crystal O qualcosa E qua abbiamo gli Output Comunque potete vedere Che qua ci dice Heat Che significa calore O livello di calore Diciamo O più che altro percentuale E quando arriva a 100 Più alto è il livello Più alto è la percentuale Di calore Più veloce La nostra Induction Furness Funzionerà Quindi ci sarà molto utile Perché appunto Andrà super veloce Una volta che arriva ai 100 Però voglio farvi notare Che quando Ce l'abbiamo attivata Così Quindi lo vediamo dai Quadratini rossi davanti La nostra Induction Furness Continuerà a prendere Un po' di energia Ogni Ogni secondo Quindi Se non avete una buona supply Di energia Non fatelo Perché Vi richiederà Un bel po' di energia Quindi finiamo questi qua Mi sa che non fate anche un po' più Ma non importa Ok Voglio togliere questo Perfetto E ora voglio fare degli altri upgrade Per le nostre macchine Andremo a fare Degli overclocker upgrade Che possono essere messi Dentro le nostre macchine Tranne l'Induction Furness Perché è già potente di suo Possono essere messi qua Che in questi quattro slot Dove possono essere messi Non solo questi Ma anche degli altri upgrade Delle Delle macchine Di Industria Craft Però quello che ci interessa A noi adesso È per l'appunto Gli overclocker upgrade Che A costo di un po' più di energia Ci fanno Lavorare più veloci le macchine Quindi le potenziano Per craftarli Ci servono Dei Electronic Circuit E dei Copper Cable Che li abbiamo già visti Non so quante volte E delle 10k O 10.000 Coolant Cell Che si fanno con 4 tiningot Per quello qua Ce li avevo già pronti E al centro Una qualsiasi Source Risorsa d'acqua Quindi Io ho qua dei secchielli E andremo a usare Questi secchielli Per fare Le nostre Coolant Cell Se non mettete I secchielli al centro Potete vedere Che vi vengono Delle empty cell Che sono Praticamente Una versione vuota Di esse E per fare Quest'intero lavoro Ci metterò Un bel po' Di tempo Perché Devo stare A fare Ognuno Di queste Coolant Cell E ce ne serviranno Un bel po' Perché voglio Utilizzarne 3 per macchina Quindi noi abbiamo Due macchine Una e due Quindi 3 6 E più 3 per La diamond drill E per L'accenso Per fare Un upgrade Anche di quelle Quindi datemi Un po' di tempo Per craftarle tutte Ci rivediamo Fra mezzo secondo Ok Li ho craftati tutti Ci ho messo un po' Perché sono noiosi E non staccano Quindi devo stare A spostarli Uno per uno Però Ora possiamo farci Ben 12 Overclocker upgrade Che Non sono la cosa Più semplicissima Da fare Perché serve un sacco Di copper Per Gli electronic circuit Per i copper cable Ma una volta che Si impara I crafting E cose del genere Non è difficile Per niente da fare Potete vedere Che non ho ancora Abbastanza Di queste 10k Con l'ancell Però per ora Ne ho 6 Che le andrò a mettere Nella mia Nelle mie macchine Quindi 3 di qua E 3 di qua Per ora sono abbastanza Magari nel futuro Ne faremo altre Però ora Me ne serviranno Altre 6 Di queste 10k Coolancell Per fare un upgrade Della nostra Chanso Quindi Se mi carica Potete vedere Che gli servono 3 Overclocker 2 advanced circuit E un diamante E della nostra Diamond drill Che è nello stesso modo 2 advanced circuit E 3 Overclocker Quindi Datemi un secondo Craft a quelli E ci vediamo di nuovo Fra un secondo Ok Eccoli qua Ci ho messo un po' Anche per fare questo Ma Chi se ne frega Stopgrade Ci serviva Veramente tanto Perché Vediamo in che posizione Sono che non me lo ricordo Perché voglio avere Un po' più Di cose potenti Perché stiamo andando Veramente lenti Con le cose E Gli item potenti Sono sempre utili Quindi abbiamo L'advanced Di censo Che può contenere Un po' più Di energia Ed è più veloce E l'advanced Diamond drill Che anche questa Può contenere Un po' più Di energia Ed è più veloce Quindi siamo messi bene Almeno da quel lato E' quasi arrivato A 100 Wow Non ce neanche ha messo Molto Ricarichiamolo Un secondo Ok Perfetto Perfetto Quindi Ora cosa andremo a fare Beh come prima cosa Dovremmo andare a fare Un setup Per quella cosa Di cui vi parlavo prima Magari non avete capito Perché non l'ho spiegato E la cosa che voglio fare Con la nuova tank Più grande E Iniziare a fare Uno storing Di lava Quindi Prendiamo I pezzi Di Tank Che abbiamo già E voglio anche Un po' di questi Liquidact Perfetto Poi vediamo Cos'altro mi serve Se non sbaglio Le ho messi dentro Questa canvas Peg gialla Sì Ci sono delle cose Ma le voglio fare dopo Con questa Anzi Andiamo a farlo subito Ok Allora Lasciamo un attimo Stare Con la cosa Della tank Perché dovremmo andare Al nether A mettere su Una pompa E bla 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 Quindi lo facciamo Fra poco Però prima Voglio fare un'altra cosa Che ci sarà utile Nel Produrre dark iron Come sapete L'unico modo Per fare il dark iron È quello di Utilizzare L'accendino Quello speciale Che è questo qua Non l'ho portato Questo qua L'urrath igniter Solo che Dobbiamo stare a sprecarlo Sempre per Fare un numero Di dark iron Come sapete In minecraft Il fuoco Può stare sempre acceso Su un certo tipo di blocco Che sarebbe la netherrack Il Wrath igniter Come lo volete pronunciare Funziona molto simile Solo che funziona Con i netherrack Quindi se io gli do fuoco Lì Fra poco Dovrebbe iniziare A prendere veramente fuoco Vediamo se va Ecco Dai Ce lo possiamo fare Perché non vuole Prendere fuoco Forse perché Non c'è abbastanza Di questi Ah no Perché l'ha trasformato In nether brick slab Oh mio dio What the fuck Ok Strano Ok Fatemi rivedere Perché non va Avevo letto sulla wiki Che andava Quindi datemi un secondo Ok errore mio Errore mio Quando mi sono ridato I blocchi Per quel problema Che vi ho già detto Che è successo Forse l'avete anche notato Non erano veri e propri blocchi Quando io li ho presi in mano Diceva lì Nella barra sopra i xp Diceva stone slabs Quindi era Errore mio Mi sono tornato I blocchi sbagliati Perché sapevo già Di averceli Abbastanza Però sono andato nel nether E me ne sono presi altri Per Essere sicuro Che tutto funzioni Mi sono anche fatto Un altro Wrath in night Perché l'altro Ci si era rotto Quindi Ora facendo così Sentiamo questo rumore Della caverna Che ci indica Che è Attivo E l'unica cosa Che dobbiamo fare ora È riuscire A mettere E togliere I blocchi di iron Senza dover Stare a romperli a mano E senza Far cadere di nuovo Nel fuoco Rompendoli Quindi quello che ho Craftato È un deployer Che ci permette Di usare Un blocco Quindi di O mettere O di utilizzare La funzione Di qualcosa Che li mettiamo dentro Per esempio Se li mettiamo una picca Lui minerà Penso Non ne sono sicuro Comunque Funziona per mettere i blocchi È quello che ci servirà E un block breaker Che rompe Che rompe appunto I blocchi Quindi noi qua Metteremo uno E qua metteremo l'altro Mettiamo qua il deployer E qua il nostro Bottone Quindi se io metto I bottoni qui No scusate Qua il nostro block breaker Quindi quando io voglio Utilizzare Questa nostra piccola Fornace Fatta in casa Posso prendere Per esempio Un blocco Che ne so Prendiamo un blocco Di stone Non c'è della stone Qui vicino Che posso rubare Perfetto qua Uh c'è anche della lava Non lo sapevo Ok Per esempio Io prendo della stone Se riesco a volare Sto jetpack Va malissimo Dovrò fare qualcosa Di meglio Prima o poi Metto qui dentro Il nostro blocco Lo deployo Facciamo finta Che sia dark iron Una volta che Si trasforma in dark iron Lo posso rompere E ci viene buttato Qui fuori Quindi Molto molto semplice Come cosa Noi solo facciamo così E ci viene buttato fuori E probabilmente Metterò una cesta Qua o qualcosa Per raccoglierlo Senza farlo Lanciare in colonia E niente Molto semplice Questa cosa Ora andremo a fare Questa cosa Della tank E mi avete detto Che questa cosa Che la canvas bag Viene lanciata È perché Non vuole creare L'inception Di una bag Dentro l'altra bag Quindi datemi Un po' di secondi Per Mettere a posto Questa Questo mio inventario Ci vediamo fra pochissimo E mi scuso Per i tanti tagli Oggi Ok ci troviamo Un attimo nel nether Perché ho realizzato Che ci sarebbe servito Un po' più di quei blocchi Di iron tank E li ho fatti Però voglio prima Mettere la nostra pompa Qui Che inizia a raccoglierci La lava Abbiamo qua Un lago Piuttosto grande Non lontano da casa Quindi Bene E se vedete Che salgo E scendo lento È perché L'ho messo in over mode Per poter volare Più in fretta O No beh Più lentamente E per poter fare Le cose più stabilmente Diciamo L'unico problema Qua Sarà riuscire a mettere Le nostre Reston torch Vediamo Se io metto La cover lì Posso metterne Un'altra qua Ok Perfetto Chi se ne frega Dei Blocchi E ora Dobbiamo solo mettere Il tesseract Che ce l'ho Dentro la canvasback Questa E voglio tirare fuori Anche questi Che ci serviranno Subito Mettiamo qua Il tesseract E sopra il tesseract Mettiamo Il nostro chunk loader Per tenere L'aria caricata E togliamo Sta roba Ok E perfetto Voglio Ingrandire Almeno così Ci prendo un po' più di lava E Sul tesseract Voglio mettere Una nuova frequenza La chiamerò Nether Lava E le diamo La frequenza 2 Ok Mettiamo Sand Holly Così può solo inviare E ora andiamo Nel mondo Normale Nell'overworld E vediamo di non finire Nella lava Che non sarebbe Una bella cosa E nell'overworld Mettiamo una tank Sempre grazie Al nostro tesseract Che riceve La lava Che prendiamo da qua Così potremo Utilizzarla Nel futuro E come ultima cosa Dopo questa Voglio aggiungere Un'altra cosa Alla nostra Piccola area Di lavoro Che ci servirà Molto molto In fretta Fra pochissimo Perché sono Senza blaze Blaze rod Anche senza Uno spawner Di blaze Però se vi ricordate bene Ho il Soul shard Delle blaze Quindi potremo Andare a utilizzare Quello E lo faremo Ovviamente Perché ci servirà Quindi voglio fare Qua la nostra Iron tank La faremo Di 5x5 Perché la versione Di 3x3 Non è grande Abbastanza Per quanta Lava Prenderemo Ok La faremo Non altissima Perché non ci serve Altissima E se non sbaglio Se ho fatto i miei calcoli Giusti La versione che stiamo Costruendo noi Dovrebbe riuscire A contenere Ben 100 O 1.600 Di liquido Quindi 16.000 Bucket O No 1.600 Bucket Sì Se non erro Non ne sono sicuro Spero di avere Abbastanza Cose Per fare Questa cosa Sì Giusto Giusto Perfetti E Dobbiamo solo fare I muri in vetro E abbiamo finito Ok 1.2 1.2 1.1.3 Vediamo se Ok sì 1.600 Perfetto Quindi mettiamo qua Il nostro tesseract Li diciamo Uh Non l'ho salvata Vabbè Li diciamo 2 Qui Dovrebbe riuscire A prendere comunque Li diciamo Ressivolli E lo connettiamo A questo E andiamo a rubare La Leva da qua Che qua non serve più ormai Quindi chi se ne frega E dovrebbe iniziare A portarci La roba Spero Almeno spero Che Sta roba funzioni Uh Ressivolli Ok Come mai non stai prendendo la lava Uh Fatemi controllare Cosa ho sbagliato E ci vediamo fra qui Ok In realtà non ci serviva la leva Quindi l'ho presa su E l'ho messa via E potete vedere che Stiamo già iniziando A prendere un bel po' Di lava Siamo già a 20 secchielli 21 E l'unico problema È che non arrivava La lava È che si stava scaldando La pompa nel nether Quindi era solo Quel problema lì Comunque Ora voglio Continuare O finire questo episodio Facendo una piccola stanza Con il nostro filler Potete vedere che ho già Un po' di cose con me E voglio farla alta 7 Quindi questi dovrebbero essere Esattamente 7 blocchi E sto cercando di fare Più canvas bag possibili Per tenere tutto in ordine Ma non ce la faccio mai Quindi Craftiamo No beh non craftiamo Facciamo la grandezza La voglio di 9 per 9 Quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E questa stanza Ci servirà per Mettere il nostro spawner Con il soul shard Quindi Lo faremo in un prossimo episodio E inizieremo anche Da un craft Finalmente Mi piace Se vi piace Ma No scherzo 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 Comunque Ok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Perfetto Così Mettiamo il nostro filler Le diamo il pattern Delle mura Perché ci serve Solo le mura esterne Ok Raccogliamo il landmark L'ultimo qui in fondo E ora Tiriamo giusto Muretto E mi scuso di nuovo Per quantità Io ho fatto in questo episodio Ma Non potevo farci niente Ok Spero di avere abbastanza Basalt Brick E non dovrebbe neanche Metterci molto A farci questa intera cosa Ok Perfetto Vediamo quanti Basalt Brick Ci sono rimasti Ok Anche abbiamo Un surplus Di Basalt Brick Quindi Bene E niente Per questo episodio è tutto Ci vediamo nel prossimo episodio Dove andremo A fare un po' di cose Con Tamcraft Probabilmente solo le basi E continueremo Questa cosa del nostro Spawner con i soul shard E niente Ricordatevi Di mettere mi piace Se non l'avete ancora fatto Di scrivervi Se non l'avete ancora fatto E di rispondere Alla domanda del giorno Se vi interessa Aiutare la serie E se vi interessa Partecipare nella serie Quindi per questo episodio è tutto Spero che vi sia piaciuto Con questo vi saluto Bella raga Qui da Anifra